Le importanti misure varate da governi e banche centrali sappiamo che stanno sostenendo il credito, lo sforzo in mano che è stato fatto con Covid da parte delle banche centrali e dei governi è quello di sostenere il mondo corporeto ed evitare fallimenti e questa slide vi dà una sensazione di quella che è la magnitudo delle azioni messe in pista sia dai governi che dalle banche centrali. Allora guardiamo all'inizio la parte alta della slide dove si vede fondamentalmente che tra stimoli fiscali e garanzie sui prestiti praticamente in tutte le aree del mondo le azioni dei governi vanno a pesare fino anche al 30% del PIL, in USA siamo intorno al 20%, ci aspettiamo un upside, un potenziale incremento di un ulteriore 10% e quindi portarlo anche in questo caso al 30% del PIL. Per darvi un metro di paragone si pensi che in Germania nel 2008 tali misure erano solo il 3,5% del PIL mentre negli Stati Uniti erano il 5%. L'altro tema, chiedo scusa, è quello fondamentalmente delle banche centrali che stanno fornendo liquidità anche in questo caso in modo assolutamente massivo, mi sto spostando sulla parte bassa della slide. Ecco tenete presente che dal solo 6 marzo ad oggi sono stati messi in pista circa 2 trillion di stimoli e di aumento del bilancio della Banca Centrale Europea, stiamo parlando di trillion di euro, di cui circa un trillion e tre del programma PEP e il TRO, quindi di acquisto di titoli corporate. A differenza del passato gli acquisti non sono quindi limitati esclusivamente al settore finanziario ma vanno a sostenere tutto il mondo corporate. Ecco quindi sia banche centrali che governi sono a sostegno significativo del debito delle aziende, siano queste investment grade e poi ovviamente nel momento in cui scendono e tendono a scendere gli spread dell'investment grade, questo porta un beneficio generale anche sul mondo più diciamo a basso merito di credito come la yield. Questo ovviamente si sta riflettendo anche nei dati di mercato ed è una cosa che vediamo abitualmente, che stiamo vedendo tutte le settimane, qui riproponiamo come al solito i flussi settimanali delle principali asset class, abbiamo diciamo evidenziato in giallo quelli che sono i flussi su high yield e investment grade e come vedete continua il filotto a parte qualche singola settimana di flussi positivi su queste due asset class e lo vedete anche sulle performance di mercato che comunque stanno sostenendo ancora il mondo del corporate. Buongiorno Michael. Buongiorno a te Lorenzo. Iniziamo con la prima domanda e parliamo di mercato. Negli ultimi mesi le asset class ad income hanno avuto dei significativi storni soprattutto sulla parte della yield e del credito ma anche sulla parte equiti che poi è stata seguita da un forte e veloce rimbalzo. Dato il contesto e guardando avanti quali sono le prospettive per un investitore ad income e che opportunità avverete sul mercato. E direi che questa è veramente un'ottima domanda. Tante sono le cose che stanno succedendo al mondo adesso ma io vorrei parlare soltanto di alcuni punti chiave nella nostra view. Dall'inizio della pandemia Covid abbiamo visto veramente pesanti cali nel mese di marzo con direi delle azioni molto forti misure da parte delle banche centrali e risposte fiscali soprattutto negli Stati Uniti ma recentemente e francamente incoraggia questo anche progressi sono stati fatti in Europa. Questo ha rimosso direi una parte dei rischi di coda nei mercati. Secondo ora è sempre più chiaro direi che gli effetti del virus saranno meno gravi di quanto non si temesse. Se fossimo tornati a metà marzo per esempio avremmo visto che la situazione era molto molto disastroso grave. Non sto cercando di minimizzare il danno che è stato arrecato chiaramente in Italia come pure anche nell'area di New York. È stato devo dire un momento particolarmente inquietante ma la buona notizia è che i medici stanno imparando e migliorando i loro trattamenti. Ci sono dei farmaci in lavorazione che potrebbero portare ad un vaccino chissà mai ma comunque gli effetti del virus sembrano molto meno disastrosi e meno dengativi rispetto a diversi mesi fa. Quindi il messaggio chiave direi lato investimento è che noi sappiamo che tassi di interesse saranno bassi e rimarranno bassi per ancora molto tempo. La Fed dice che non stanno neppure neanche pensando alla possibilità di alzare i tassi e quando guardiamo il cosiddetto grafico a punti della Fed che ci fa vedere che pure la Fed vede che i tassi dei Fed funds rimarranno a zero nel corso anche del 2022 direi che è abbastanza sorprendente. Quindi l'income, l'income ora è più che mai ricercato e direi che questo pone alcune domande molto interessanti per gli investitori. Che cosa significa tutto questo ad esempio? Qui vediamo un grafico molto importante che fa riflettere e ci fa vedere appunto dove si trovano i tassi oggi e quali saranno gli effetti e l'impatto per i rendimenti futuri. Il grafico va letto così, la linea rossa indica il rendimento yield attuale oppure quello nel tempo sui treasury decennali americani e poi abbiamo le colonne gialle che ci fanno vedere appunto il rendimento annualizzato medio per decenni per l'indice Buckley's Aggregate Bond e vedete che c'è una sorprendente relazione molto stretta direi tra quelli che sono i yields, i rendimenti e i rendimenti futuri. Vi do un paio di esempi per chiarire che io trovo veramente sorprendenti. Se tornassimo a guardare dove stavano i rendimenti dei treasury decennali americani al primo di gennaio 1990 stavano a 7,9%. Poi guardiamo invece il rendimento medio annualizzato per il decennio degli anni 90 per l'indice Buckley's Aggregate Bond era di 7,7%. Quindi il rendimento iniziale del treasury era di 7,9%, il rendimento nel decennio successivo era di 7,7%. Ora andiamo al primo gennaio 2000 e vediamo che il rendimento dei decennali uso era 6,4% e il rendimento medio annualizzato del Buckley's Agg dell'indice era 6,3 o 4%. Quindi partendo da 6,4% che era il rendimento del total retore per l'Agg per i 10 anni successivi. Poi arriviamo invece al primo gennaio del 2010 e il rendimento decennale era di 3,8%. Esattamente il rendimento medio annualizzato per il Buckley's Agg che era 3,8%. Quindi quando il punto di partenza sul decennale americano è meno dell'1% è difficile poter immaginare forti grossi rendimenti da Bond Investment Great corrono nei prossimi 10 anni. E questo è già un primo messaggio importante se volete essere investiti in strumenti obbligazionari molto sicuri negli Stati Uniti o in Europa o in altri paesi sviluppati i rendimenti futuri credo che saranno particolarmente tristemente bassi. Ma contemporaneamente credo che ci siano anche delle opportunità molto interessanti però in altri mercati che producono income. Qui su questa pagina vediamo appunto il prezzo del dollaro per diverse classi di attivo. In alto a sinistra per esempio vediamo il prezzo del dollaro delle obbligazioni high yield. Si vede che sono scese di circa il 20% nel mese di marzo ma hanno poi recuperato una buona parte di questo sell off, di questo storno. Ne parleremo più avanti diciamo di queste aree particolari che ci piacciono o che non ci piacciono e delle diverse altre classi. Ma il mio punto è questo, è che dato che queste obbligazioni hanno subito un sell off in dollari, i loro rendimenti sono saliti e quindi il carry, quindi il flusso accettolare in molti casi è molto interessante e crediamo anche che ci sia anche un po' di potenziale di apprezzamento dei prezzi. Alcune di queste asse classiche non è pertanto ritorneranno ai loro livelli massimi precedenti. Quindi questa è una combinazione molto forte, buoni livelli di rendimento non solo ma anche un apprezzamento dei prezzi e questo potrà generare dei rendimenti molto più alti in alcuni di questi mercati rispetto al debito sovrano oppure alle obbligazioni di stile investment grade. Grazie Michael, molto chiaro. Entriamo adesso un po' più nel dettaglio, andiamo a guardare l'asset class obbligazionaria. Abbiamo visto che anche dopo il rimbalzo ci sono stati dei punti d'ingresso significativamente interessanti per quanto riguarda l'obbligazionario, specialmente se paragonati a quelli di fine 2019. Ecco Michael, qual è la tua view sull'obbligazionario e dove trovi che ci siano le opportunità più interessanti? Beh, voglio farvi vedere adesso una slide che a mio avviso veramente fa molto riflettere. Allora, qui noi stiamo guardando i rendimenti di diverse classi di attivo, quindi da sinistra a destra. Vediamo il mercato dell'investment grade e dell'IG, quindi dell'Iyield, del bank loan, dei prestiti, dei CLEO, degli emergenti. I puntini sono un po' articolati e complessi, però ve li spiego. Allora, qui stiamo guardando i rendimenti di queste diverse classi di attivo adesso, ora, rappresentati dai rombi piccoli, rossi. Poi abbiamo il trattino verde, invece, che rappresenta dove erano questi rendimenti verso metà febbraio. E poi invece abbiamo la linea gialla, che rappresenta dove erano i rendimenti il 23 marzo, quando molti mercati erano scesi ai minimi storici. C'è una cosa che trovo veramente straordinaria, è che quando guardiamo l'universo delle obbligazioni di IG, investment grade, i rendimenti veramente sono tornati sostanzialmente esattamente ai livelli in cui si trovavano prima del crollo del mercato a marzo. Sono tornati quindi dai livelli che abbiamo già registrato verso la metà di febbraio. E direi che questo è per lo più il prodotto dovuto, soprattutto negli Stati Uniti, alla Fed che ha comprato ingenti quantità di questo mercato investment grade. Quindi anche in settori colpiti e coinvolti dal Covid, comunque i rendimenti si sono decisamente risollevati. Le cose invece sono molto diverse quando guardiamo altri mercati come quello delle obbligazioni high yield. Se guardiamo l'indice high yield, potete vedere appunto che i rendimenti sono alquanto più alti rispetto al mese di febbraio. Quindi in febbraio in verde il rendimento sulla high yield come indice era di circa il 5% e i rendimenti o il picco in realtà del sell off al picco erano più del 10%, circa 12% sul mercato high yield. E con il recupero dei prezzi, come vediamo e abbiamo visto nella slide precedente, questi rendimenti sono scesi a circa 7%. Però ci sono degli aspetti secondari molto importanti quando guardiamo quello che sta succedendo nel mercato high yield, per esempio. Qui vediamo non soltanto l'indice, ma potete vedere anche i settori correlati e colpiti da Covid-19 nell'universo, nel mondo high yield. E chiaramente questi sono l'area più rischiosa del mercato high yield. Includono per esempio i settori come l'alberghiero oppure le compagnie aeree. vedete benissimo che c'è stata soltanto una ripresa parziale in alcuni settori che hanno avuto un impatto negativo da Covid, ma se guardiamo invece le obbligazioni high yield che hanno un rating WB, che sono praticamente la yield di più alta qualità, di un punto al di sotto degli investment grade, potete vedere che il rendimento oggi è al 5% e che è comunque bene di più di un paio di mesi fa soltanto. E se poi volete o siete disposti a prendere un pochino più di rischio e andare nella parte singolo B del mercato, vedete che potete prendervi un rendimento ancora superiore a più di 7,5%. I rendimenti anche qui sono più alti di nuovo dei livelli di febbraio, ma senz'altro sono risaliti non poco dai livelli precedenti. Ora, se poi siete veramente disposti a prendervi più rischio ancora, potete comprarvi delle obbligazioni in CCC che oggi ti danno un rendimento da 12 a 13%, ma questo vi dice una cosa che c'è molto rischio di default. In questa parte del mercato di qualità più bassa, sono le aziende più a leva finanziaria nella categoria e hanno comunque davanti ancora moltissime incertezze economiche, quindi noi pensiamo che non sia saggio comperarsi delle obbligazioni in CCC, accettare un alto livello di default, di rischio, ma ci sentiamo tranquilli nell'investire i nomi in WB, obbligazioni in singolo B, dove questi rendimenti a nostro parere sono molto appetibili oggi. Altra cosa che ho notato è che anche se i rendimenti sono molto bassi nell'IG, nell'investment grade, molto bassi nella porzione più sicura del mercato CLO, il AAA, il AA, queste parti di mercato, comunque io credo che i rendimenti ponderati per il rischio lì saranno molto solidi e il rischio di perdita, di downside con tutto il programma d'acquisti delle banche centrali è minimo, quindi anche se i rendimenti sono bassi, i rendimenti rispetto al rischio sono in realtà molto interessanti per un investitore veramente conservatore. Pensiamo anche che questa idea di essere alti in qualità in molti diversi mercati per riuscire a cogliere questo pick up, questo aumento di incrementale di rendimento, abbia molto senso per un investitore che non si vuole prendere troppi rischi, sempre però che la qualità sia alta.